Don Anibali, sono le sette, sono le sette! Le sette, da sessantacinque anni ogni mattina mi sveglio alle sette senza sgarrare di un minuto, e ci sta chi deve mettere la sveglia, chi si deve far chiamare tre o quattro volte, al carità io niente, alle sette precise, con qualunque tempo, estate, inverno, sole, pioggia, neve, tempesta, tac, apro gli occhi, segno di buona salute. Con tutto questa notte ho dormito poco o niente per via di quel maledetto fischietto. Ma che ci avrete avuto da fischiare tutta la notte? Una continuazione! Permesso? Avanti! Io non capisco, all'età vostra ancora con il fischietto, che educazione, che serietà! Ma chi fischiava? Tu! Ma io lo so perché fate questo, lo fate per tenere sveglia la gente, siete una razza maligna, vi conosco! Eh, cara Carletta! Buongiorno Don Anibali! Il caffè che fai tu non lo fa nessuno, quando io morirò tu portami il caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro! Eh sì, da qui a cent'anni! E il fidanzato ha scritto? No, ieri no! Eh, sai che dolore! Non l'hanno fatto ancora generale! Lei mi vuole prendere in giro! Però nell'ultima lettera dice che primavera lo fanno caporali! Perbacco! In fondo i generali sono tutti caporali rimbambiti! Questo se lo sentono, l'arrestano! Grazie cara, vai vai! Ah, e ricordati del Soravusto per quella schifezza di scaldabagno! Senz'altro principe! Che cara ragazza! Sono contento per Gino che è tanto a posto pure lui! Sembra ieri che l'ho tenuto a battesimo! Come passa il tempo! Eh, a chi lo dici! Tre revolverate al marito Sgozza la moglie con cinque coltellate Figlio unico fa saltare in aria la madre E poi l'epoca mia la chiamano il secolo dei veleni Ma quali veleni? A paragonico oggi erano acqua e zucchero Eh, a me però questo Grussov mi sta simpatico No, no, mi è scappata Non si ripeterà più Quando sei entrata Don Annibale stava pensando a voce alta Come al solito, parla ai muri Con chi deve parlare? Sta sempre solo Ma dite voi che è solo E che diavolo? C'è proprio le mani di ricotta Ma no, non se ne è rotto manco un pezzetto Eh, se vede che è caduto in piedi E se sa, le cose quando cascano in una certa maniera Non si è rotto E bravo il saputo E un'altra? Ce ne erano rimaste solo tre? Portiere, buongiorno Gemana Arsor Augusto Ah, sì, stavo venendo io Il principe l'ha già cercato E quella chi è? Oh, qui vanno tutti le presce E poi che idea di riparare ancora con lo scarto a bagno? Andiamo su, va Voi pensate a fare il lavoro vostro? Matteo, dico io Sono pagati e discutono pure Eh, oggigiorno Buongiorno, sr. Antonio Ciao, Marisela Ciao Anche stamattina è mancata la corrente al filo Bus, più di mezz'ora ho dovuto aspettare Sei al filo, Bus Ah, bella, bella Ti vivo Sal principe È permesso? Ah, sì, manca Io mi ho cominciato Io già mi sento una fiaca A chi lo dici? Ma che ci hai messo dentro a sta cassetta? E che ci ho messo? La solita roba Pesano dove l'altro Oh, via un po' te che io non la faccio più Vabbè Oh, questo ha lasciato pure la chiave nella porta Bussa un po' Siamo entrati, namo? Principe Questo giornale è stato già letto da qualcuno Me ne accorgo dalla piegatura Lo sapete che la mattina voglio essere il primo ad aprire il giornale Perché è mio Permesso? Sono io che lo faccio comprare Con i soldi miei È permesso? Eh, va bene Facciamo finta di niente Cos'è? Ma con chi parli? Con nessuno Allora è matto No, è convinto che ci stanno i fantasmi Ogni tanto ci parli E beh, io che ho detto È matto Buongiorno, signor principe Oh, finalmente Alla buon'ora Il signor Augusto si è degnato di farvi venire Sono due giorni che non mi lavo Faccio schifo Dica un po', come mai ogni tanto sto scardabagno si rompe? Non sono mica io a romperlo So io chi deve essere Ecco Figurati se non se la prendeva con noi Il tuo posto non era sulla cassetta di uno straniaro Marilina Ti piace, bella, eh? Adesso che ha divorziato, chissà Eccolo là Non funziona È guasto Chi sa che diavolo c'ha La fiammella si accende Ma è debole Si ritira e si rispegne immediatamente Mo' io dame un'occhiata, eh? Dammi un po' il caccevide Odè Te sei persa Marilina Su, dai, non facciamo scherzi Di là fuori Oh, e te sarai cascata Eh sì Mi sa che sono proprio i fantasmi Che si divertono a romperlo Se no non si spiega Sol Principe, questo non ce può credere Dice che io so scemo Io lo dico a lei per piacere È vero che esistono i fantasmi? Questi due vogliono sfottere Eh come no Esistono Solo a Roma ce ne sono a migliaia Ma va E dove stanno? Eh dove stanno? Un po' dappertutto Specialmente nelle case antiche come questa Nelle soffitte, negli armadi Non so Hai mai sentito un armadio che screcciola? Eh? La gente dice Beh beh C'è un tarlo nel legno Eh Un tarlo C'è un fantasma nell'armadio Te lo dico io Il telefono squilla Pronto, pronto, pronto Pronto Nessuno risponde Allora tu pensi male di tua moglie Dici hanno sentito una voce d'uomo E hanno riattaccato Ma che? È un fantasma che si è divertito a formare il numero Eh ma pensa Io mi cosa sapevo Dica un po' sorprima Sti fantasmi si fanno vedere qualche volta Eh no Si possono vedere solamente dopo morto O quando uno si trova in pericolo di vita Ah apposta una zia mia che andava sotto al tram Ha visto un guerriero antico Che racchiappava per i capelli E la salvava Hai visto? E come no I fantasmi di casa mia non li ho mai visti Ma li conosco lo stesso Sono tutti roviano Crepati di morte violenta Eh già perché se uno se ne muore bello tranquillamente Nel letto di casa sua Ah può fare i salti mortali Fantasma non ci diventa Ah si? E lei li conosce? Che tipi sono? Eh prima di tutto ci dovrebbe essere il frate Eh si Fra Bartolomeo Il fantasma più vecchio Quello ci rimase nel 1650 53 Allora mi sa che è stato lui a far mettere sto scartabagno Dica un po' sorprima Come morì quel frate? Di polpette Perché di notte al convento Quando tutti dormivano Lui se ne andava nella dispensa a vedere se c'era qualche cosa da mangiare Una volta trovo le polpette Ma erano avvelenate Ce l'aveva messo il padre guardiano per fregare i topi E pensare che fui proprio io a dirgli che dovevano essere i sorci E fare piazza pulita in dispensa Poi c'è il cavaliere Reginaldo Un bellissimo giovane Sta qui dalla fine del settecento Quello dice che con le donne era terribile Non se ne salvava una E chi era? Rodolfo Valentino? Pare che se la intendeva anche con la moglie del guardaportone La bisnonna di Antonio Anche gli amori ancillari Buttati via Eh quello ogni sera Una volta qua Una volta là Mentre i mariti dormivano Entrava dai balconi E si intratteneva con le moglie Ah gli esparò qualche marito che non dormiva allora No no Cade dal balcone di una fornaia Mentre scappava si spezzò la corda e blovò Fece un salto di dieci metri Però ne valeva la pena Vergognati peccatore Perché le polpette sì e le fornaie no? La scarpa che è di là nel salone è sua Gli si sfilò nella caduta E non è finita C'è donna Flora Perché ci stanno pure i fantasmi femmine? Eh che femmina Dice che era bionda Bellissima Si parla di me? Pare che fosse un po' cretina Si 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 parla proprio di te Si suicidò per amore Si innamorò di un garzone Ma il padre non lo voleva sentire nemmeno nominare Rutilio si chiamava Aveva ragione suo padre Uno che si chiama Rutilio Un bel giorno il conte padre andò dal garzone Gli dette una somma E lo fece partire per l'estero La poveretta si gettò a fiume E non nel mese di agosto Nel mese di febbraio Ed allora pare che tutte le sere alle otto Donna Flora va a Ponte Cestio Blolo Ma si butta di sotto Quando si dice l'intelligenza Stasera andiamo a Ponte Cestio Se buttiamo e serviamo l'angelata Voi due credete di prendermi per il fondo dei pantaloni Ma i fessi siete voi Che non credete che i fantasmi esistono C'è che sono Non ci credo neppure io Quando mangio peperoni la sera Mi viene come un prurrito Beh ecco i peperoni che abitano Si vede che non li digerisco Ma mi piacciono Uè ragazzi Qui non stiamo combinando niente Sbrigatevi Beh ma tanto stamattina Non fanno a tempo Torniamo domani Oggi pomeriggio C'è pure un altro lavoretto Perché non potete finire adesso E non ci faremo i feri adatti Eh si dobbiamo cambiare pure un pezzo di tubo Si è rotto No ma è consumato E poi guardi Sono le undici Tra una cosa e l'altra Se fanno le undici e mezza Mezzogiorno dobbiamo staccare Non vale la pena Torniamo domani eh Eh già Tra una cosa e l'altra Voglio di lavorare Saltami addosso Sopri state tranquillo Noi domani venimo su presto E vi sistemamo tutto E se capisce Casomai se fanno aiutare Dal fantasma del frate Che ne dici a te Ha detto bene Ma che fai Sei male Ma che stavi con me Che ne sono E no sta bene Che stai aperto da solo Ma che per forza Mi sono stati sfaticati Siete convinti Che ci sono i fantasmi Che è i fantasmi Asciugati E ben ti sta Una doccia balurda Boh Come si è aperta questa Amica si capisce Ma sei La fatica di malefici Fra Bartolomeo Fra Bartolomeo Senti mi devi dire subito Boldino Lo saluti tuo fratello Ah si ciao Annibale Qual è il massimo Comun divisore Di 5 dodicesimi 3 ventiquattresimi E due sette 5 dodicesimi 3 ventiquattresimi 2 sette Era 24 Sicuro Sir Principe Allora torniamo domani Mai più via Incoscienti Pazzoletto Dove diavolo l'ho messo Là Ah